Allora, un po' nei miei studios a Ivrea, con orchestre, con cori, abbiamo dal coro gospel al coro lirico, abbiamo la soprano Adriana D'Amato che è un soprano lirico molto importante e poi una sorpresa, ve la racconto a breve, finito il discorsino sulla musica, perché metà delle musiche sono state fatte a Vienna con grandi musicisti, alla Batmos è il mio progetto. Allora, il discorso invece musica lo termino con questa chicca che si chiama Dimash Kudainberg, un nome stranissimo, questo ragazzo del Kazakistan di 25 anni è per me, che comunque è collaborato con grandi musicisti e prodotto molti cantanti, e per tanti la voce più bella del mondo. Questo ragazzo ha sei ottave di estensione, perciò a parte, a 25 anni, è già famoso anche dei video su YouTube con 70 più milioni di visitatori, a parte, spiego, questo è un pianoforte, a parte l'ottava quella super grave dove è quasi difficile per qualsiasi voce riprodurre quei suoni, da lì in avanti per sei ottave, due toni oltre il pianoforte, questa è la sua estensione vocale. L'ha trovato lei, si chiama lei il nostro alieno di casa e abbiamo digitato la voce più bella del mondo e viene fuori questo Dimash. Cioè se tu googli la voce più bella del mondo esce... Se googli quello non lo so, io posso dire però che in molti anni fa, io navigando, soprattutto su siti stranieri, cercando cosa andava all'estero, avevo scoperto questo ragazzo, che non è che l'ho scoperto io, comunque c'era, ed è molto molto seguito all'estero, un po' meno in Italia, ma in Asia è una roba impressionante, ha fatto un concerto a Capodanno, vicino a Natale, a New York, tutto esaurito, nell'arco di pochissimo. Diciamo che mi aveva veramente colpito tanto e ne ho parlato con Beppe, chiedendo un parere suo rispetto a questa voce che secondo me era straordinaria, ma ovviamente il mio orecchio non è il suo, lui riesce a sentire cose che voi umani non potete neanche immaginare. Se c'è gli intrasuoni. Lui sì, lui sì, lui in un'orchestra con 300 elementi, dice c'è qualcuno che ha sbagliato una nota, tu dici eh, ed è così, per cui, e anche a lui è piaciuto molto, quindi poi siamo riusciti a inserirlo nella colonna sonora e a fargli cantare un pezzo, dei titoli di coda, che adesso posso dire... No, no, dunque, termino, scusami Eleonora, scusatemi. Allora, lui canta un brano che si chiama Cross and Less Dimension, di cui tra l'altro abbiamo finito il videoclip oggi. Che è stato scritto da? Da me. È sempre Pier Giuseppe. No, la cosa carina... La cosa musicale a Pier Giuseppe non gliela toccano, piuttosto gli potevi fregare la regia, secondo me. Ma io, come dice lei, l'ho fatto solo per proporre le mie musiche. Cioè tu in realtà hai fatto Criedo de Pes per fare la colonna sonora. Per fare la colonna sonora, poi dopodiché abbiamo incollato delle immagini e questo è quello che andrete a vedere. Allora, il... Tu parlavi della storia, lui già pensava alla colonna sonora. E certo, no, no. Tornando al discorso di Dimash, sta uscendo il videoclip prodotto da Sony, che penso che a giorni sarà in tutto il web e eventualmente ve lo giro. Assolutamente, assolutamente. Grazie. Grazie.